Ciao a tutti e benvenuti nella mia nuova rubrica in collaborazione con Youpla Craft, la rubrica di Mari e per inaugurarla ho pensato di creare questa ghirlandina inaugurale per questo nuovo anno, realizzarle semplicissimo, un cartoncino da 2 mm, della polvere da embossing sbricicosa e una carta dell'ultimo pad Make a Wish di Youpla Craft dalla quale ho appunto estrappolato queste stelline, un po' di fili di lana e un po' di fantasia, mi raccomando se anche voi create una ghirlanda ispirata da questa idea taggate me e Youpla Craft così possiamo vedere le vostre realizzazioni e allora buona creatività a tutti e alla prossima ispirazione nella rubrica di Mari, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.